Venerdì 8 aprile alle ore 10, presso la Fondazione Alario per Elea Velia da Scea, si terrà l'inaugurazione del Centro Sperimentale Sviluppo delle Competenze nell'area del Customer Relationship Management e dei Servizi Avanzati Kibbs Lab. Il Kibbs Lab favorirà la conoscenza, la formazione, lo sviluppo delle competenze, ma pure la sperimentazione di servizi e soluzioni per la creazione e la crescita imprenditoriale. Ma prima di un'altra sfida innovativa, il Kibbs Lab rivela il suo carattere innovativo nel configurarsi come una realtà capace di incidere sulla modalità di interazione fra la comunità e il territorio. Attraverso l'incontro e l'aggregazione, i cittadini, le imprese e i protagonisti chiave dell'innovazione potranno scambiare idee e conoscenze, condividere progetti e lavorare insieme per contribuire a quel processo di specializzazione intelligente e di scoperta imprenditoriale. Nella sua funzione di nodo connettivo fra produttori di conoscenza, il mondo dell'istruzione e della formazione e della ricerca, e produttori di valore in mondo imprenditoriale, La nuova struttura, finanziata dalla Regione Campania, opererà per abilitare l'innovazione nei prodotti, nei processi e nei servizi di ogni settore economico, adottando il design come nuovo metodo di progettazione e condivisione, che includa valori materiali e generi processi e relazioni in un clima favorevole e informale, reso possibile anche dalla modernità e dalla funzionalità degli spazi in cui il centro è stato concepito e progettato, e che venerdì si apriranno a quanti ne condivideranno le finalità.